Molto bene, continuiamo il nostro tutorial inserendo elementi tipici di una foresta nella nostra piazza di Londra. Ho preparato questa immagine di un leone, si tratta di scontornarla in maniera molto veloce, quindi utilizziamo lo strumento Bacchetta Magic che troviamo in questo punto, la toleranza va più che bene 33, un semplice clic qui sul cielo, sullo sondo, vedete, e abbiamo già ottenuto un buon lavoro, eliminiamo anche questo oggetto che non ci interessa, quindi utilizziamo lo strumento Lazzo Poligonale con Shift premuto, facciamo questa operazione. In questo modo aggiungiamo questa parte alla nostra selezione, dobbiamo rovesciarla, quindi ci portiamo sul menu Selezione, Inversa, ed ecco fatto. Vi ricordate che cliccando in questo punto realizzeremo una maschera di livello, dove tutto quello che è bianco rimane, mentre quello che è nero viene bucato, viene quindi reso trasparente. A questo punto, Strumento sposta, selezioniamo con il sinistro, andiamo sopra la nostra piazza e poi torniamo giù. In questo modo, vedete, depositiamo la testa di leone all'interno di Trafalgar Square. Ecco qui, vi faccio notare che ci sono dei grip momentaneamente in questa immagine. Possiamo quindi, con Shift, ridimensionare in maniera proporzionale la nostra testa, riposizionarla e eventualmente anche ruotarla un po', vedete, posizionandosi sul vertice del nostro rettangolo di selezione. Fatto questo, doppio clic e l'elemento così è stato inserito, vedete, con la propria maschera. Ora si tratta di inserire un po' di vegetazione che è tipica delle foreste. L'immagine che ho preparato è questa qui. Si tratta di cercare di estrarre questa vegetazione allo sfondo che è abbastanza complesso. La cosa non è facilissima. Photoshop ci viene in aiuto con questo comando. Lo troviamo su Immagine, Calcoli. In questa immagine, vedete, non c'è un canale sufficientemente contrastato da poterne ricavare prima una selezione e poi una maschera con il metodo Canale. Invece, con il pannello Calcoli possiamo unire due canali in un unico canale, che verrà aggiunto qui sotto, un canale alfa, dove cercheremo la combinazione tra i due canali il più possibile contrastata. Allora, io direi di provare tra il canale, per esempio, che è sempre della stessa immagine, il canale blu e il canale verde. Qui abbiamo i vari metodi. Dobbiamo fare delle prove. Vedete, basta selezionare e poi spostarci con la freccia della tastiera per vedere le varie combinazioni. Ecco, direi che il metodo Differenza è quello che più ci interessa. Riesce a selezionare abbastanza bene la nostra vegetazione e nasconde lo sfondo. Questa finestra, quindi, unirà il canale blu e il canale verde, il canale blu e il canale verde, in un unico canale alfa. Qui si aggiungerà un canale. Una volta che faccio clic su OK, eccolo qui. Su questo canale ci lavoriamo con la stessa tecnica dell'altra volta, ossia ci portiamo su Regolazioni, Balloritonali, e qui cerchiamo di portare la nostra immagine il più possibile su due colori solo, il bianco e il nero. Ecco, io direi che così può andar bene. Diamo OK. Nuovamente selezioniamo il nostro pennello. Vi ricordate, opacità più o meno va bene questa, anche il flusso. Il metodo, vi ricordate, Soft Light, luce soffusa. E cominciamo, con molta calma, a pennellare sopra le foglie, in modo tale da farle diventare il più bianco possibile. Una volta raggiunto un buon livello di grigio, che assomiglia sempre di più al bianco, conviene utilizzare non più il metodo luce soffusa, ma colore schema. Bene, fino ad ottenere questo risultato. Direi che così può bastare. Vi ricordate, per creare la selezione, CTRL e clic sull'icona del nostro canale, Photoshop seleziona tutto quello che è bianco, vedete. Ci portiamo sul pannello livelli, a questo punto clicchiamo su questa icona per creare una maschera di livello. Eccola qui. Come vedete, con questa tecnica, utilizzando i calcoli, il pannello calcoli, siamo riusciti abbastanza velocemente a staccare le foglie dal fondo, che non era una cosa semplicissima da fare. Anche qui, adesso, non facciamo altro che selezionare lo strumento esposta, clicchiamo e andiamo sulla nostra immagine, nella piazza e poi giù. Una volta sistemato le nostre foglie, facciamo un doppio clic. Direi di adattare anche la luminosità di queste foglie a quella dell'immagine della piazza. Ci portiamo sul menu Immagine, Regolazioni, direi di utilizzare Curve e abbassiamo questa curva, prendendola in questo punto, vedete, in modo da scurire un po' le nostre foglie. E diamo OK. Possiamo intensificare queste foglie realizzando una copia del livello. Quindi tasto destro in questo punto, duplica livello e spostiamo ovviamente. Spostiamo un po' più così. Ecco fatto. Ora andiamo ad inserire una cabina telefonica, un elemento tipico, quindi, di Londra. Qui l'immagine di partenza, e con la stessa tecnica del mascheramento siamo riusciti a ottenere questo tipo di risultato che apriamo. Ovviamente qui c'è una maschera che va a nascondere la parte rettrostante alla nostra cabina. Comando Sposta. clicchiamo e spostiamo come siamo capaci di fare sulla nostra immagine. Anche qui, su questi quadratini, con Shift, cerchiamo di dare la giusta proporzione per metterla in questa posizione. facciamo un po' inclinata, visto che deve dare il senso dell'abbandono. Ecco fatto. Doppio clic per inserire definitivamente l'oggetto nell'immagine. Ora c'è da creare un po' di realismo con un'ombra. Ci portiamo quindi sulla nostra immagine, la piazza. selezioniamo il colore di sfondo nero lo strumento è questo strumento brucia e andiamo a simulare l'ombra della cabina così può bastare. Ora inseriremo una pavimentazione molto più riovinata di questa e quindi doppio clic su questa immagine qui non facciamo altro che sempre con lo strumento sposta di importarla direttamente qua. Mettiamo in questa posizione attenzione è importante il livello dove si è selezionati durante l'inserimento perché viene posizionata sopra l'immagine inserita. Andiamo però a scegliere questa non la modalità normale ma bensì sovrapponi. in questo modo. Dopodiché su questo livello dove siamo posizionati ci andiamo ad aggiungere una maschera sempre di livello cliccando su questa icona. Ci portiamo sopra la maschera impostiamo il colore di primo piano nero selezioniamo il pennello attenzione alla modalità normale in questo caso ripingiamo sul bordo della fontana vedete e facciamo emergere la parte sottostante. direi che così può bastare. Inseriamo ancora un altro elemento di vegetazione quindi da questa foto abbiamo ritagliato vedete per ottenere questa immagine con la solita modalità inseriamo questa vegetazione all'interno della nostra piazza attenzione vedete dobbiamo spostarla un po' sopra e dobbiamo anche prendere i lati e riproporzionarla va bene così può andare altro elemento tipico è il bus quindi siamo partiti da un'immagine come questa velocemente un ritaglio in questo modo e sempre inseriamo con la solita tecnica all'interno della nostra piazza anche qui si tratta di riproporzionarla shift per mantenere le proporzioni ecco fatto doppio clic ci posizioniamo ovviamente sopra la maschera sempre nero di primo piano abbiamo il pennello selezionato alto e tasto destro per diminuire un po' le dimensioni del pennello e amalgamiamo vedete con lo sfondo e anche questo può andare e infine aggiungiamo ancora vegetazione sempre con le solite tecniche trasciniamo con lo strumento sposta all'interno della nostra immagine io mi fermo qui col tutorial ma chiaramente ora siete in grado di inserire ancora altri elementi per arricchire alla nostra fotocomposizione vi do appuntamento al prossimo tutorial program